Eccoci tornati in diretta per concludere parlando ancora di una bella produzione di Rete 8 con il centro, cioè insieme a me Andrea Mori che ci racconta di cosa si tratta perché parliamo ancora della programmazione di Rete 8. Ho detto prima giovedì alle 15.30 un appuntamento importante per gli amanti del cinema, per gli amanti della letteratura, per gli amanti dell'Abruzzo o della scrittrice Donatella di Pietrantonio. Insomma per parlare in sintesi dell'Arminuta stiamo vedendo anche scorrere alcune scene del film perché l'appuntamento è importante perché ci permette di incontrare seppur attraverso la televisione e conoscere più da vicino proprio le protagoniste del film l'Arminuta. Allora Andrea. Sì Marina, l'occasione è quella di dialogare con le piccole protagoniste dell'Arminuta, le piccole attrici abruzzesi dell'Arminuta, ricordiamo che sono Sofia e Adriana rispettivamente nel ruolo dell'Arminuta e di Carlotta, quindi la sorellina dell'Arminuta, che sono entrambe abruzzesi, una di Vasso e una di Spoltore. Abbiamo pensato di portarle in studio in rete 8 e di mettere a disposizione di tutti i telespettatori e lettori del centro come? Aprendo un filo diretto con loro facendo in modo che i telespettatori e comunque i lettori del centro possono telefonare allo 0871 7853 232 e rivolgere le domande direttamente alle piccole attrici, a Sofia e a Carlotta. Oppure possono farlo sempre in diretta scrivendo a webchiocciolarete8.it o redazionechiocciolarete8.it. Tutto questo in diretta Facebook sul centro, il centro.it, trasmesso dagli studi di rete 8, saranno riprese anche le immagini per la televisione, quindi rete 8, e sarà poi tutto quanto rimandato sul giornale Il Centro del giorno dopo, raccontando anche un po' indietro le quinte, quindi come è andata questa diretta Facebook, che ripeto è sul centro.it alle ore 15.30 giovedì. Allora io ricordo che oltre che su Facebook sul centro.it che l'evento appunto si svolge negli studi di rete 8 e dunque saremo in diretta alle 15.30, ha condotto oltre che da Andrea Mori anche da Anna Di Giorgio e per seguire i social ci sarà l'altra collega, Ilenia Gifuni. Si può partecipare come ha detto Andrea, ricordo il numero perché hai modificato una cifra, l'hai un po' invertita, allora lo ridico 08715873232.